Dal suo ritorno Naya Jax è più incisiva e più convincente, sia la Turing che come personaggio, meno comedi e più tosta. Tu la vedresti con un titolo mondiale? Sì, ad essere sincero sì, perché c'è stato un miglioramento netto, sia nella proposta chiaramente che proprio anche lei come performer, ho visto un miglioramento e secondo me con quella stazza, comunque un moveset eccetera molto più pulito di come era qualche anno fa, perché no, una campionessa che è il fisicamente imponente, molto più grosso delle altre. Perché ricordiamoci comunque che nelle donne non è che abbiamo tante i big woman, può dire la sua secondo me, e secondo me un titolo magari anche per qualche mese ce lo può avere benissimo, anche perché poi non è che è da, credo che sia da Resilmene a 33, che non sta con un titolo alla vita, secondo me può avercelo, può ambire. Beh, Nia Jax ha quell'idea di credibilità guerriera che poche altre hanno, perché è grande, è grossa ed è diversa da chiunque altro nel roster, a parte Piper Neven. Comunque ha una sua unicità, ha un suo perché, riesce quando ha voglia a far sembrare i match molto feroci. L'ha fatto con Rhea Ripley, per me la miglior difesa della Mami in singola artenzone, l'ha fatto con Becky Lynch più volte, e anche adesso, quando si è trovata nel torneo a combattere, beh, Nia Jax ti dà proprio quell'idea di cavolo, questa è più grossa e più forte delle altre. Io l'ho sempre trovata preparata per quello che doveva fare, pur con la limitazione grave di doversi cimentare con atlete pesanti la metà, alte un metro e cinquantacinque, con le quali è difficile dosare la tua forza, il tuo impeto e la caduta amplificata dalla forza di gravità. Quindi per me Nia Jax, chiaro, non stiamo parlando della miglior lottatrice tecnica della storia, perché il suo match è un'altra cosa. Però in generale, accumulando esperienza, magari ha limato, e perdendo anche qualche chilo, ha limato quelle che erano le sue incertezze. Ma in questa WWE, e io ve l'ho raccontato anche nel backstage, dietro le quinte, nello show di Bologna, in questa WWE è una voce rispettata dalle altre ed è una leader dello spogliatoio. Quindi sono contento che ci sia, che si dia da fare, che abbia voglia di mettersi in gioco e che rappresenti effettivamente un personaggio utile all'interno del roster. La vedo con un titolo? Ma io gliel'avrei già dato praticamente quando era vacante, dopo l'infortunio della Mami. Però credo di sì. Ritengo che questo suo lavoro vada ricompensato, posto che purtroppo per lei si trova nel roster femminile, al momento è più complicato tra i due. Quello dove c'è maggior concorrenza. Grazie Miller. No, solo una cosa che, diciamo, questa sua stazza, poi vedendola pure dal vivo, veramente ti dà l'idea rispetto alle altre che le può far volare all'altra parte dell'arena, è impressionante. Quindi secondo me bisognerebbe anche puntare principalmente per questo, perché poi per Niven è molto di più l'attacca vicino al comedy, ecco. Grazie mille. Grazie.